Ogni bambino ha il diritto di incontrare altre persone e a fare amicizia, di sviluppare le proprie capacità relazionali e di regarsi in un'unione pacifica. Ogni bambino ha il diritto di giocare, di riposarsi e di svagarsi. Ogni bambino ha diritto ad essere spensierato e a potersi divertire in attività ricreative e di condivisione. Ogni bambino ha il diritto di ricevere un'istruzione che gli permetta di sviluppare al meglio la sua personalità, i suoi talenti e le sue capacità mentali e fisiche. L'istruzione ha il compito di prepararlo a vivere in maniera responsabile e pacifica, in una società libera nel rispetto dei diritti degli altri e dell'ambiente. Ogni bambino ha il diritto di appartenere alla religione che preferisce, di poter sperimentare liberamente e volontariamente manifestazioni della diversità religiosa. Ogni bambino ha il diritto di essere protetto da ogni forma di violenza ed essere accompagnato e supportato nel suo cammino di crescita. Ogni bambino ha diritto a poter esprimere i propri sogni e a sentire che questi possano essere realizzati concretamente. Ha diritto a sognare, di poter essere e diventare tutto ciò che vuole. Consapevole di avere nelle sue mani tutto ciò che serve per costruire il suo futuro. Ogni bambino ha il diritto di godere di una buona salute, ricevere cure mediche e farmaci quando è malato. Ogni bambino ha il diritto di sorridere, di avere speranza nel domani e di guardare davanti a sé sorridendo per ciò che sarà il suo futuro.